Salve a tutti ragazzi e sono ancora qui ancora una volta con un altro appello per voi Un po' di tempo fa, non so se vi ricordate, avevo lanciato un appello perché cercavo gente per il team del gioco che mi sto sviluppando L'appello devo dire che ha dato i suoi frutti, sono entrate un bel po' di persone nel nostro team quindi stanno lavorando con noi Ma non è di questo che voglio parlare oggi, semplicemente voglio chiedervi il vostro aiuto Perché abbiamo vinto di recente una Startup Weekend che è una competizione per Startup che si tiene in varie città E abbiamo guadagnato l'accesso ad una Global Startup Battle che è una competizione mondiale proprio per aziende nascenti, per Startup Perché mi serve il vostro aiuto? In che modo voi potete aiutarmi? Semplicemente in questa competizione dobbiamo raccogliere più voti possibili per quanto riguarda la prima fase E ognuno di noi può dare un voto ogni 24 ore Quindi quello che voglio chiedervi è di votare eventualmente per il nostro progetto se vi interessa O se volete semplicemente darci una mano ad arrivare alle stelle Questo perché? Perché alla fine superando questa fase, diciamo questa votazione Avremo la possibilità di affrontare altre Startup ad un livello europeo E di eventualmente di vincere e andare in Silicon Valley a realizzare quelli che sono i nostri progetti Quindi adesso vi spiegherò un pochettino come eventualmente fare per votare e ve lo faccio vedere passo passo Benissimo, allora la prima cosa da fare è cliccare su uno dei link che vedete qui sullo schermo Oppure nel link che c'è in descrizione E verrete catapultati su questa pagina qui del nostro browser Che è la pagina del nostro progetto Atron Hunters che sarebbe il gioco Per votare vi basterà semplicemente cliccare qui Dopodiché fare il login con Facebook Quindi vi consiglio di tenere Facebook aperto per poterlo fare molto velocemente Oppure semplicemente vi dovrete registrare e poi fare il login con i dati con i quali vi siete registrati Una volta fatto il login vi si ricaricherà la pagina E in questo riquadro dove io invece ho un messaggio di ringraziamento Troverete un pollice da cliccare Una volta cliccato verrà assegnato un voto al progetto Quindi avrete dato il vostro voto E vi apparirà questo messaggio qui Ovviamente adesso mi appare perché ho già votato E quindi devo aspettare 24 ore per poter donare di nuovo Dopodiché domani potrò fare la stessa identica cosa E così via fino al 4 dicembre di quest'anno Quindi abbiamo solamente una settimana di tempo Per raccogliere più voti possibili Se volete farvi un'idea di quello che è il progetto in sé per sé Vi basterà guardare il video Anche se è un video molto lato business Quindi non parla in sé per sé del gioco vero e proprio Ma ne accenna diciamo solamente con le caratteristiche Però è molto basato appunto sul lato business E se volete qua potrete leggervi un breve background di alcuni membri del team Che in particolare sono quelli che hanno partecipato allo startup weekend Quindi sono solamente 7 di tutto il resto che c'è E che siamo 55 vi ricordo a tutto il mondo Quindi ragazzi che dire Ricordatevi solamente di votare una volta al giorno Quindi una volta ogni 24 ore E grazie a voi spero che riusciremo ad arrivare alla fine di questa competizione Ed uscirne come vincitori Mi era venuta intanto un'idea E avevo pensato di farvi lasciare dei commenti qui sotto Sotto questo video su YouTube intendo E magari scrivendomi un argomento oppure una serie di tutorial che vorreste vedere Se dovessimo riuscire a vincere Proverò a diciamo a prendere le due serie più interessanti O i due argomenti più interessanti E a farci dei tutorial sopra Dipendentemente ovviamente da quelle che sono già le mie conoscenze E le mie capacità Quindi se mi chiedete di progettarvi la luna E' un po' difficile Però se magari siete interessati a qualche argomento in particolare Magari su Unity O sulla realtà virtuale Potrei anche farvi un breve video di introduzione sulla realtà virtuale Non lo so ragazzi Sbizzarritevi Lasciatemi semplicemente un commento qui sotto Dopodichè sperando di vincere Proverò a diciamo A soddisfare i vostri desideri in questo senso Quindi a fare dei video su degli argomenti che avete deciso voi Ne sceglierò due Quindi Non so impegniamoci e proviamo a vincere tutti quanti insieme Va bene ragazzi Io vi saluto Questo è tutto Vi lascio qui il link della pagina Sia in descrizione sia da qualche parte qui sullo schermo del video E niente Spero di riuscire a vincere con il vostro aiuto Grazie a tutti Ci premiamo qui E ci vediamo nel prossimo video A presto